Incontro tecnico in provincia questa mattina con il comune di Andrea per analizzare su quale soluzione lavorare rispetto all'accesso diretto a Monte Grosso sulla strada provinciale 2. Dal tavolo a cui hanno preso parte anche il presidente della Batolo di Spoto e il sindaco di Andrea Bruno è emersa la volontà di canalizzare le attenzioni verso il declassamento di quel tratto di strada ad extraurbana secondaria non essendoci le complanari. Questo consentirebbe di ripristinare in modo più o meno definitivo la rotatoria di accesso alla borgata una rotatoria che comunque andrà tolta per consentire il collaudo definitivo dell'opera di ammodernamento della strada. Fosse stato un altro il presidente della provincia o fosse stato un altro il dirigente della provincia se ne sarebbero ben potuti lavare le mani rispetto ad un progetto che hanno ereditato invece sin da subito si sono messi all'opera perché è volontà pressoché unanime trovare una soluzione e porre il rimedio a quello che in passato è stato fatto. Non si può tagliare completamente fuori il borbo Montegrosso soprattutto in considerazione del fatto che quelle opere che sono state realizzate non sono delle opere compiute e complete perché ci doveva essere un ulteriore progetto che doveva consentire anche la realizzazione delle complanari. Siccome di fatto siamo alla vigilia della rimozione della rotatoria che tecnicamente è un'operazione indifferibile per poter collaudare l'opera perché bisogna chiudere progettualmente quel cantiere e poi ovviamente la provincia deve classificare la strada sta lavorando sull'ipotesi offerta dal comune ipotesi che deve passare anche da delle valutazioni poi da sottoporre all'attenzione della regione. Si attende comunque il 7 maggio giorno in cui ci sarà nuovamente un tavolo tecnico in prefettura con tutti gli enti coinvolti per definire percorso e cronoprogramma. Di certo c'è che dopo quella data la rotatoria andrà rimossa. Nel frattempo sarebbe importante arrivare già con una soluzione successiva e dei tempi certi per la risoluzione del problema come chiedono a gran voce i residenti di Montegrosso. È chiaro che i residenti dicono noi siamo pure disposti perché abbiamo capito che tecnicamente bisogna rimuovere la rotatoria ma per quanto tempo per un giorno per cinque giorni per sette giorni e soprattutto come arriviamo alle aziende e quindi questo è quello che in queste ore è attenzionato dalla provincia che insieme al comune ha preso in considerazione anche l'ipotesi di lavorare per renderlo migliore il tratto della strada della vecchia Minervino insomma per intenderci che però non è un tratto di strada che va a risolvere il problema di tutti. Grazie.